Il tiro, De Santis su Denis. Adesso attenzione al Napoli che parte con Amsic, c'è spazio per Cavani, l'apertura per Cavani che può andare in area di rigore. Cavani al limite, rientra sul sinistro, Cavani il tiro, ma la carezza del croce del palo è verso il fondo. Verso il pallone Denis, può attaccare Cavani, zona tiro, Cavani, il tiro, ma la fuori di pochissimo. Sale pazienza, tocco di pazienza, di testa Zapata, ancora pazienza, di testa, pallone per Cavani, Lavezzi, palla sul sinistro, prova il tiro. Ancelera Jebda, può arrivare nella zona tiro, poi va a sbattere contro il muro, è retto lo stesso Isla che ha subito un pestone, rimane a terra. A terra Isla, attacca alle Napoli, Lavezzi, largo centro Sena, dal fondo do Sena, nella crossa Andanovic, ci mette i pugni, arriva Jebda, è chiuso, è il pallone, buono per Amsic. Amsic, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore. No, 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 calcio di punizione, avevano protestato i giocatori dell'Udinese, convinti che Tagliamento avesse concesso il calcio di rigore. Infatti avete visto adesso una pacca sull'epetto, come a dire, beh, scusa, ma avevamo capito male. Su questo, su questo. Può impostare Amsic, l'inserimento centrale Jebda, ruba il tempo a Pinzi, Jebda, largo c'è Cavani. Cerca spazio, Cavani, cross basso, deviazione, splendida sottoporta. Cosa ha preso? Alta sopra la traversa e ha toccato Andanovic. Jebda, aumenta la pressione di Napoli in questo finale di partita. L'assombrero un po' fuori luogo di Jebda, viene fermato da Inler, è scattato Pasquale a sinistra. Lo vede Inler con il sinistro, il pallone perfetto per Pasquale. Deve andare a chiudere Mangio. Lo punta Pasquale, se ne va Pasquale con il sinistro. Il cross in aria, fuori dalla portata di Dennis, arriva Pinzi, il tiro, De Sanctis. Si muove tra le linee l'avezzi che si propone. Jebda preferisce cambiare nella zona di Mangio, di testa, pallone per Amsic. È chiuso Amsic, a sostegno c'è Campagnaro, azione insistita del Napoli, cross teso di Campagnaro, Amsic! Ancora Amsic che imposta. C'è quello spunto, le finte su Benassia, viene raddoppiato, c'è anche Pinzi in copertura. Costretto a cedere all'indietro, sale Cannavaro, zona tiro, Cannavaro, parte il tiro! Immobile Andanovic, polla di poco fuori. Attenzione, Inler, parte il tiro! Rete! Inler un gol fantastico, lo dirisce in vantaggio! Armero, tra due avversari, grande giocata di Armero, è partito Armero, c'è Denis in aria, la cross in aria, Denis il controllo di Beto, il tiro! Rete! Un gol meraviglioso, Denis! Vanno addirittura in sei a saltare, il pallone preda di Hiller che poi sbaglia e la rilancio. Regala il pallone a Gargano, il tiro! Immobile Andanovic, polla di poco fuori. Dossena, si allarga Amsic, Dossena, va al cross, Maggio, traversa! Cavani si accentra, lascia sfilare, Gargano. Ancora Lavizzi, cerca l'uno contro uno, il cross, palla che si impenna, Andanovic, pallone li sfugge, non c'è fallo sul portiere. Poi Belasiac, colpisce l'arbitro! Il Napoli si ritrova una grande opportunità, nel modo piuttosto casuale, Lavizzi non ne approfitta. Gargano può andare al cross, palla in mezzo, non riesce ad arrivare il pallone a Mascara, insiste il Napoli con Cavani. Si è rialzato Lavizzi. Cavani, palla in aria, giocatore del Napoli a terra, calcio di rigore! Calcio di rigore, falo su Lucarelli, calcio di rigore per il Napoli che può riaprire la partita. Rosso per Domizzi. Spulso per Domizzi. È pronto Cavani, calcio di rigore per il Napoli. Fisca tagliavento, parte Cavani e Andanovic! E palla in calcio d'angolo. È pronto Gargano, palla deviata, colpo di testa! Di Campagnaro, quasi a botta sicura. Lavizzi, ultima azione della partita. Gargano, pallone morbido, Cavani, Cavani! Non tra il pallone, Mascara a rete! Mascara!